Noi vogliamo costruire un'Europa moderna ma che si basi sulla centralità della persona, che si basi sui valori del popolarismo europeo e sono i valori dei fondatori dell'Unione Europea e per far contare l'Italia nell'ambito di questo progetto serve avere una Forza Italia e un'alleanza con noi moderati più forte, per far contare di più perché il Partito Popolare Europeo è la prima forza politica in Europa. Noi vogliamo, detto come Forza Italia, il nostro obiettivo è il 10%, adesso con l'accordo politico che abbiamo fatto con noi moderati possiamo essere più ambiziosi.